Alessandra, dove siamo? A Napoli. Sì, ma esattamente. Sono le sette ora fra poi non ci chiudono dentro. Bisogna sbrigarci perché siamo nella Madre, cioè il Museo d'Arte Contemporanea. Di Napoli? Sì, Madre, mi pare che si chiama Madre, lo sapevi? Sì, lo sapevo, qui ci ho portato io. Sì, vabbè. E allora cosa abbiamo visto? Ma si è visto Jeff Koontz, poi si è visto Anish Kapoor, che a me fa parecchia paura, era un'installazione dove c'era un buco nero, come al solito, la morte. E poi qui non c'è nessuno e poi oltretutto non c'è bagni, perché si vede nel mondo contemporaneo la gente non ha fatto tanto la pipì e poi c'è... Ma qui dove siamo? Scusa, ti pare un museo? A Napoli. Ma ti pare un museo questo? No, qui siamo nella terrazza del Museo dell'Arte Contemporanea, però è tutto sconnesso. Più che altro ho paura che i guardiani non vedano loro ad andare via e ci chiudono dentro. Ciao.